Nasconde la pancia sotto un ampio foulard grigio e soprattutto non toglie mai la giacca scura, la Première Dame di Francia Carla Bruni davanti ai fotografi durante la prima uscita pubblica dopo le voci sempre più insistenti di un'ipotetica gravidanza. Da Voici, una delle principali riviste del gossip francese dell'entourage della Première Dame, sarebbe trappelato che quest'ultima è incinta di due cemelli la cui nascita è attesa per ottobre. Se è vero, taglia a corto Voici, non potrà nasconderlo ancora a lungo. Off the record, assicurano invece alcuni lettori del Parisien che hanno avuto l'occasione di intervistarla all'Eliseo alla fine della settimana scorso, Carla non smentisce il gossip della sua gravidanza. Fa bene ad essere prudente, spiega uno di loro, a 43 anni una gravidanza è sempre a rischio, ma Carla non fa ancora nessun annuncio ufficiale. Ora sono in qualche modo obbligata a non parlare e ha spiegato tutto quello che dico oscura quello che fa mio marito, il presidente Nicolas Sarkozy impegnato a ricandidarsi per l'Eliseo.